Allora siamo arrivati a un momento in cui sul campo questa guerra sembra non avere soluzioni se non a lunghissimo tempo, anni e anni, perché si è arrivati a uno stallo, uno scontro in cui si conquistano centinaia di metri, sì è vero c'è una stanchezza dei soldati russi ma c'è anche un logoramento da parte degli ucraini. Io penso che occorra un intervento esterno, per questo chiamo la politica, degli altri paesi per cercare di, mentre si aiuta, di aprire barchi per cercare la pace.